Ciao da Avsim! Massimiliano Allegri countdown, Massimiliano Allegri loading per il suo ritorno sulla panchina della Juventus. Non ho notizie, non ci sono conferme, ci sono però delle indiscrezioni molto consistenti. Ormai quando siamo arrivati al 29 di aprile, in una settimana vuota di partite per la Juventus, già che siamo usciti troppo presto dalla Champions League, ma in semifinale credo che non ci saremmo arrivati neanche mettendoci tutto l'impegno possibile. Nonostante abbiamo ancora, credo, una delle rose più, sicuramente una delle rose più forti del campionato e credo anche la più forte ancora, anche quest'anno, a dimostrazione che il problema di questa Juventus non è il centrocampo scarso, ma è l'organizzazione, la programmazione che viene fatta sui giocatori e sull'allenatore. E il problema, uno dei problemi di quest'anno è stato proprio l'allenatore, è stato Pirlo, con la scelta che è stata fatta su di lui, che quindi non è colpa di Pirlo, perché Pirlo è stato scelto, la sua colpa è quella di avere eventualmente accettato, pur non essendo in grado di allenare la Juventus, essendo uno senza esperienza, ma la colpa principale è quella della dirigenza. Parliamo a parte delle sorti della dirigenza della Juventus, in particolare di Fabio Paratici, anche per quello che riguarda l'inchiesta di Perugia sul caso Suarez, qui parliamo appunto di Allegri, che sta per tornare sulla banchina della Juventus, secondo quanto riportano tante fonti e tanti giornali. Il punto qual è? È che chiaramente Andrea Pirlo è in bilico, chiaramente Andrea Pirlo è difficile che rimanga a fare l'allenatore della Juventus anche la prossima stagione, perché i risultati sono quello che sono, è a rischio qualificazione alla Champions, la Juventus, quindi non è sicura di qualificarsi alla Champions, non siamo sicuri neanche di qualificarci all'Europa League, proprio nell'anno in cui tra l'altro c'è un posto in meno, anche per il tramite dei preliminari, perché c'è pure la qualificazione alla Conference League, e sarebbe veramente un disastro, un disastro epocale dal punto di vista sportivo e dal punto di vista economico. Nonostante Pirlo sia appunto stato scelto da questa dirigenza e soprattutto da Agnelli, in particolare da Agnelli in prima persona, e quindi comunque i disastri di questa stagione, se ce ne sono stati e ce ne sono stati, non sono, ripeto, imputabili soltanto ad Andrea Pirlo. E siccome Andrea Pirlo è in bilico, non si stanno sentendo voci su altri nomi, su altri allenatori, e per questo l'unico consistente che viene fatto è Massimiliano Allegri, e per questo pensiamo, possiamo dedurre, che sarà lui probabilmente il nuovo allenatore della Juventus, se ci sarà un cambio in panchina. Ma se andiamo a leggere i giornali è una cosa praticamente già fatta, c'è chi dice che Allegri è già stato scelto, a prescindere da quello che riuscirà a raccogliere Pirlo in queste ultime settimane, in queste ultime partite, quindi anche se Pirlo dovesse riuscire a centrare il traguardo della qualificazione nella prossima Champions League, per quella che poi non sarebbe più la sua Juventus, c'è chi invece dice che dipende proprio da quello, se Pirlo riesce a centrare il traguardo Champions, allora rimane, e in alternativa tornerebbe Massimiliano Allegri, e si è paventato anche un ritorno in corso di stagione. In realtà, e qui siamo proprio appunto al riscontro fattuale, diciamo alla concretezza di questi giorni, più che a proiettarci in avanti, Allegri non sembrerebbe intenzionato a supentrare in corsa. Mi pare che abbia detto questa cosa anche a Sky Calcio Club, quando è stato ospite, l'unica volta che si è palesato in questi anni, tra l'altro ammettendo candidamente che lui in questi due anni, senza allenare, ha visto pochissime partite, quindi già prima non è che fosse tanto al passo con il calcio europeo, figuriamoci adesso, e d'altra parte si è parlato anche di offerte che lui avrebbe rifiutato, però tutte queste offerte forse non ci sono state, e se ci sono state, non sono state da parte di società del livello della Juventus, e magari il rifiuto è stato perché il progetto non era convincente, non gli davano abbastanza soldi, non è detto che Allegri abbia rifiutato delle offerte importanti, e che quindi le abbia ricevute. Può darsi di sì, può darsi di no, può darsi che stava aspettando soltanto di tornare alla Juventus, perché non pensa ad altro, non vuole altro, ma questo non è un elemento che possiamo utilizzare per argomentare la situazione, cioè che Allegri abbia ricevuto o non abbia ricevuto offerte valide, che le abbia rifiutate o che non abbia rifiutato un bel nulla, e comunque osserviamo che il Bayern Monaco ad Allegri non ci ha pensato, è andato dritto su Nugglesman per cinque anni, non è l'elemento di discussione principale, l'elemento principale di discussione è, se vogliamo, il motto della Juventus, Live Ahead. Che cosa significa Live Ahead se poi mi vai a riprendere Massimiliano Allegri? Molto semplicemente, poi possiamo ragionare a livello di contenuti quanto volete, si dice Di Bala al centro, Di Bala al centro che significa? A centro campo? Centro mediano metodista della nuova Juve di Allegri, Di Bala? No, può darsi, allora se volete ragioniamo un attimo di calciatori, e poi appunto ragioniamo di quella che sarebbe sarà eventualmente la scelta, ma forse è già stata, perché comunque le loro determinazioni questa dirigenza le ha già prese, ma dobbiamo parlare anche di quello che ci aspetta in questo finale di stagione, quindi che cosa significherebbe il ritorno di Allegri e in quale contesto? A livello di giocatori, diciamo che Di Bala sarebbe al centro, Bene, mi farebbe molto piacere, anche se, io avevo sempre detto, mi farebbe altrettanto piacere vedere Di Bala alla Juventus allenato da un altro allenatore, ecco, l'abbiamo visto, la Juve di Sarri, Di Bala è stato MVP della Serie A, è stato il miglior Di Bala forse che abbiamo conosciuto, è stato un giocatore fortissimo e determinante, quindi la prova l'abbiamo avuta, Di Bala non è scarso, Di Bala è forte, ma gli serve l'allenatore giusto che non lo metta a fare la mezzala, a fare il centrocampista o comunque a stare pur da attaccante troppo lontano dalla porta, come aveva fatto Allegri, soprattutto nella stagione 17-18 in particolare, poi con l'arrivo di Ronaldo sono cambiate tante cose e quindi anche da questo punto di vista magari Di Bala al centro significa Ronaldo via, che era una voce che era attrapelata nelle ultime settimane e tra l'altro, voglio dire, anche, guardate, i giornali che parlano del ritorno di Allegri è un po' come se facessero capire che la cosa effettivamente è concreta e vogliono anche mettere un po' di pressione ulteriore a Pirlo che però sembra fregarsene di tutta questa storia e anzi ha detto di recente io lascio criticare, lascio parlare e avevamo sentito di un Allegri che nel 2019 aveva suggerito a D'Agnelli secondo Repubblica, che vi ricordo che è un quotidiano di famiglia perché è di proprietà comunque ricollegabile ad Exor, aveva suggerito di liberarsi di Ronaldo, aveva detto D'Agnelli liberati di Ronaldo così possiamo dare nuova progettualità a questa Juventus, si è pensato di fare fuori Allegri e di tenere invece appunto Ronaldo, con risultati che non sono stati buoni ma non perché è stato mandato via Allegri ma perché è mancato tutto il resto, è stato preso Sarri che non c'entrava nulla con quella rosa, d'altra prospettiva non è stata presa una rosa adeguata per Sarri, comunque non sono stati presi i giocatori del livello di Cristiano Ronaldo e delle caratteristiche utili per sviluppare un progetto tecnico serio e quindi ci troviamo a questo punto di nuovo con l'alternativa Allegri-Ronaldo. Bene, a parte questo per esempio potremmo ragionare di Chiellini, ecco Chiellini che sembra addirittura, si legge che è scontento perché non ha ricevuto una proposta di rinnovo e sto pensando di andarsene in MLS, mamma mia terribile questa cosa, non riesco a dormire la notte a pensare che Chiellini ancora non ha capito che deve smettere di giocare a calcio e se ne vuole andare dalla Juve in MLS, come faremo senza Chiellini l'anno prossimo? Non so veramente come, non so come prenderla, quasi quasi inizio a fare digiuno e penitenza per questa cosa e quindi magari Chiellini anche con il ritorno di Allegri potrebbe andare via così come secondo qualcun altro potrebbe restare proprio su richiesta di Allegri per fare anche da segmento, di congiunzione tra passato e futuro, anche se poi con Allegri di futuro ce ne sarebbe poco perché sarebbe un andare avanti tornando indietro, richiamando comunque quello che è già stato e quindi per garantire ad Allegri un impatto migliore e una maggiore malleabilità, diciamo un tramite nello spogliatoio rispetto alle sue richieste, Chiellini potrebbe essere centrale, ma si potrebbe ragionare di tanti giocatori e anche della dirigenza stessa. Dicevo, ne parliamo a parte perché poi c'è un discorso a parte su Paratici, ma si è anche detto che Allegri e Paratici non si sono separati bene e che quindi se torna Allegri è perché deve andare via Paratici o magari va via Paratici per conto suo perché è già stato deciso per altre vicende e allora può tornare Allegri. Però vedete non c'è una progettualità, cioè se va via quello torna quell'altro perché hanno bisticciato, cioè siamo un po' all'asilo da questo punto di vista, non c'è una vera programmazione e progettualità e quindi vediamo che cosa significherà, se davvero sarà così, il ritorno di Massimiliano Allegri. Ve lo dico adesso come proclama poi di qui alle prossime settimane, vedremo che cosa altro uscirà, che cosa altro potremo e dovremo dire e tra l'altro non credo che vivremo dei bellissimi momenti di dibattito social se torna Allegri perché, lo sapete, Allegri ha questa idolatria addosso, immeritata, che forse lui neanche vorrebbe, di gente che anche solo se qualcuno gli dice Allegri è spettinato, subito si fionda a dire no come ti sei permesso, Allegri è spettinato, ma ti ha fatto vincere 11 trofei in 5 anni, come osi criticare Allegri perché è spettinato? C'è gente che davvero farebbe e ha fatto questo e quindi diventerà di nuovo un dibattito arido, asfittico, quasi tossico, anzi, realmente tossico, per cui io ve lo dico già adesso, cercherò di stare abbastanza alla larga da certi discorsi perché poi si smette di parlare di calcio e allora di cosa parliamo, di cosa parleremo se effettivamente tornerà Allegri sulla panchina della Juventus? Tornando a quello che dicevo prima, Liva Head, dov'è il Liva Head se torna Allegri? Non c'è nessun Liva Head, la dimostrazione sarebbe questa, che Allegri non è riuscito ad andare oltre la Juventus e che la Juventus non è riuscita ad andare oltre Allegri, cioè non c'è altro, non c'è vita oltre la Juventus per Allegri, cioè non ci sono altre società e non c'è vita oltre Allegri per la Juventus, cioè non ci sono altri allenatori. È stato preso Sarri che era agli antipodi, era un po' l'antitesi di Allegri sotto certi aspetti, ma non è stato preso in maniera convincente e non è stato preso per farlo restare, per dargli effettivamente una progettualità. È stato preso Pirlo forse più per dimostrare che anche Pirlo poteva vincere lo Scudetto e che quindi la Juventus era più forte di default, anche senza una programmazione, anche senza un piano preciso e adesso si ritrova un'altra volta indietro. Mentre il Bayern Monaco prende Nagelsmann, che deve ancora compiere 34 anni, che ha fatto due stagioni da allenatore all'Ipsia e abbiamo tutti apprezzato e ammirato, e lo prende per cinque anni già. Cioè non è che gli dice, guarda, tu sei un allenatore alla fine giovane, hai dimostrato sì, però devi venire al Bayern Monaco, andiamoci con i piedi di piombo, ti prendo per un contratto biennale e poi vediamo, magari rinnoviamo. No, cinque anni. Ora, non sappiamo se effettivamente Nagelsmann resterà cinque anni al Bayern e con quali risultati, però questa è la programmazione. Perché poi si dice, dobbiamo inseguire il modello Bayern, perché il Bayern ha vinto anche la Champions, oltre ad aver stravinto da anni in Bundesliga, però non si può replicare del tutto perché questo è quell'altro, il Bayern non va in Superlega perché loro hanno amministrato bene, però poi quando dobbiamo andare alla conta dei fatti, noi riprendiamo Allegri. Questa è la dimensione della Juventus. Allora, io veramente mi faccio da parte, non nel senso che non faccio più video, nel senso, beh, sì, probabilmente ne farò di meno, parlerò anche d'altro, perché che cosa siamo qui a parlare? Di tattica? Volete parlare di tattica con Allegri? E che parlate di tattica? Se lui l'ha detto, chiaramente che non ha strumenti tecnologici, ha lo scritto nel suo libro nel 2019, ho un iPad, ma ce l'ho perché me l'ha regalato la Juventus, neanche so come funziona, non ha un computer, cioè adesso magari l'avrà comprato perché con il lockdown e tutto il resto che fai, non è neanche un computer, ma un allenatore nel 2021 non ha un computer, nel 2019 non ce l'aveva, come può studiare? Cioè, sì, sta alla continassa, fa le sessioni video, ci sono tutti gli strumenti, ma lo sappiamo che Allegri non lo fa, l'ha scritto nel suo libro, ripeto, ha scritto che lui, una delle pochissime cose che chiede ai tattici, ai match analysts, che sono una figura chiave nel calcio di oggi, è quanti falli abbiamo fatto noi, e quanti falli hanno fatto loro, cioè lui chiede il numero di falli, dal numero di falli capisce, boh, chissà cosa, cosa vuoi capire dal numero di falli, c'è un'infinità di altri dati che devi andare a consultare, non necessariamente devi essere scrupoloso come Sarri o come Guardiola, che addirittura il Manchester City assume gli astrofisici, per studiare a livello di dati, la squadra e l'esecuzione in campo, come gioca, ma almeno, almeno qualche cosa, qualche cosa in più, cioè a momenti raccolgo più dati io, su Who Scored, per farvi un po' di analisi tattica post partita, che Allegri quando allenava la Juve, a suo dire, non lo sto inventando io, l'ha detto lui, chiedeva solo il numero di falli, quindi, che vuoi parlare di tattica, vuoi parlare di sviluppo del gioco, torneranno quelli che, andate a tifare Inter, se non vi piace vincere 1-0 all'ottantacinquesimo, no, non mi piace vincere 1-0 all'ottantacinquesimo, mi piace se è episodico, ma comunque dimostra di una Juve, di una squadra che sa giocare, sa giocare e sa come deve vincere, allora va bene, ma se invece è quello, è sistematico, e poi anche quando si parla magari tanto di difensivismo e contropiedi, c'è un discorso completamente diverso tra essere contropiedista e essere privo di schemi offensivi, Conte lo possiamo anche definire contropiedista di ripartenza nella sua Inter, soprattutto nella seconda parte di questa stagione, ma gli schemi offensivi ce li ha, che poi sono sempre gli stessi, però li sa fare eseguire in maniera massimamente efficace ai suoi attaccanti e ai suoi giocatori, quindi Conte i contenuti sicuramente ce li ha, pur essendo un allenatore tendenzialmente difensivista, Allegri non è solo un allenatore difensivista, è un allenatore con pochi contenuti per quanto riguarda gli schemi offensivi, quasi nessuno, ma sempre a suo dire, e allora veniamo anche un po' in conclusione, riallacciamoci tra le prospettive e la realtà, potrebbe tornare Massimiliano Allegri, perché non torna subito allora? Dico io, perché se Pirlo è sfiduciato sostanzialmente, è delegittimato, non si sa se raggiungiamo l'obiettivo Champions, e se non lo raggiungiamo Pirlo se ne va, o per qualcuno se ne va in ogni caso, tanto vale chiamare subito Allegri per ottenere l'obiettivo Champions, perché penso che con il ritorno di Allegri, al quarto posto, ma anche al terzo ci arriviamo, anche perché ho fiducia nelle capacità di Allegri, di dare quell'input ad una squadra, che in questo momento è svagata, ed è questo l'altro punto, con un allenatore sfiduciato, con un direttore sportivo, Paratici, che probabilmente andrà via, ed è sostanzialmente in bilico, e lo sanno tutti pure lui, anche Nedved dovrebbe rinnovare, non ancora rinnovato, Agnelli con la questione Superliga e tutto il resto, pare in bilico pure lui, ci sono giocatori che potrebbero andare via, o per scelta proprio, perché hanno capito che la società, non necessariamente punterà su di loro, vanno in campo e cosa fanno? Quello che vediamo, cioè non c'è impegno, non c'è dedizione, non si cresce, non si migliora, il progetto Juve è finito, da settimane, queste prossime partite, a cominciare dall'Udinese, potrebbero essere molto peggio, di quelle che abbiamo visto finora, altro che quarto posto, potremmo andare veramente a picco, anche no, ma è possibile, perché i giocatori non hanno le motivazioni, quindi un cambio in panchina, sarebbe a questo punto urgente, come abbiamo già detto, Pirlo andava esonerato prima, per riprendere Allegri, per mettere Tudor come traghettatore, una scelta che abbia un senso, non la devo fare io, non la dobbiamo fare noi tifosi, la dovrebbe fare questa dirigenza, e invece non ha senso, avrebbe più senso chiamare subito Allegri, piuttosto che far finire male Pirlo, perché solo male può finire, anche se vince la Coppa Italia, a chi se ne frega, per poi andare a chiamare Allegri, a cose già fatte, con l'Europa League magari da giocare, non ha senso, quindi io non capisco, questo tipo di gestione, questo tipo di progettualità, ma l'abbiamo detto, il tutto parte proprio, dalla progettualità assente. Grazie per l'attenzione, buon dibattito nei commenti, aspettando il ritorno di Massimiliano Allegri, mettete like al video se vi è piaciuto, condividetelo, iscrivetevi al canale, attivando le notifiche, per non perdere i prossimi video. Ci vediamo molto presto, e sempre forza Juve!